All'indomani della giornata mondiale delle api, tutte le associazioni apistiche dell'Emilia-Romagna si sono riunite per fare squadra e promuovere azioni sinergiche verso la tutela del settore. Sono tre le questioni aperte, spiega Ernesto Torretta, presidente dell'Associazione degli Apicoltori Piacentini. Si tratta della disciplina della movimentazione degli apiari, della tutela delle api dai trattamenti fitosanitari e della tutela dell'apis mellifera sotto specie ligustica, per la quale è necessario impedire l'introduzione e la moltiplicazione di altre sottospecie. Torretta traccia anche un bilancio della stagione, relativo alle prime fioriture, con il tarassaco ai minimi storici a causa delle gelate e le incertezze sulla caccia per le piogge arrivate dopo soli quattro giorni di fioritura. I mesi primaverili sono periodo di lavoro intenso per gli epicoltori, non solo perché le api cominciano a bottinare e a produrre miele, ma anche perché si verificano le sciamature. Lo sciame d'api è la propagazione della specie, quindi da un'arnia ad un alveare esce uno sciame che di fatto è un nuovo individuo che va a posarsi su un albero, su un ramo, in una cavità e quindi ha bisogno di essere recuperato e messo a dimora in arnie tradizionali. Sono oltre 50 le segnalazioni ricevute dall'associazione nell'ultimo mese da parte di cittadini, vigili del fuoco o polizia locale. Per 32 gli sciami sono stati recuperati, mentre 21 erano soltanto telefonate di persone preoccupate dalla presenza di qualche ape davanti alle loro finestre. L'invito è comunque quello di contattare l'associazione per una valutazione e un eventuale recupero dello sciame. Potete comunque contattarci anche sui nostri canali social, ad esempio, mandandoci una foto o un video per farci capire bene quale sarà la situazione che ci troveremo davanti. Ci lasciate il vostro indirizzo e il numero di telefono e noi provvederemo a comunicarlo ai nostri soci.